ABIO, associazione bambini in ospedale, è questo il nome del progetto grazie al quale è stata inaugurata una ludoteca nel reparto pediatria dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Un'iniziativa che ha visto insieme Fondazione ABIO Italia Ollus e il gruppo Mondadori che hanno donato gli arredi per la nuova sala giochi. Lo spazio, vivace ed allegro, colorato e stimolante, consentirà di garantire una migliore accoglienza per i piccoli pazienti degenti presso la struttura. Lo spazio e il tempo che viene dedicato a questi bambini è comunque un momento di gioia che può allontanarli comunque dalla malattia. Abbiamo la possibilità comunque di trasmettere musica nei momenti comunque di festa, ad esempio Natale o Pasqua, ci divertiamo comunque organizzando feste ed eventi a cui partecipano anche le altre associazioni e il personale anche di reparto. I bambini noi intanto, pure il nostro primario, cerchiamo di farli stare il meno tempo possibile ricoverati in modo che non sentano il distacco dalla casa loro e quindi questo spazio è proprio adatto. Cerchiamo volontari che dedichino tre ore del loro tempo a settimana qui in ospedale per stare con i bambini, per giocare e per divertirsi con loro. Quindi se qualcuno è disponibile o ha voglia comunque di dedicare del tempo a dei piccoli in ospedale, noi siamo qui a braccia aperte. Grazie a tutti.